Allora c'è un altro festival che comincia domani, siamo a Palermo 30 maggio 5 giugno e la nona edizione del Sicilia Queer Film Fest apre giovedì sera, quindi domani sera alle 20.30 al cinema De Seta con una operazione molto interessante, la presentazione in anteprima mondiale di un progetto interattivo, sono tanti film per cui 8 lungometraggi che saranno in concorso insieme a 13 cortometraggi, varie sezioni collaterali così come c'è una sezione dedicata proprio alla storia del cinema e che darà la possibilità di ragionare sul lavoro fatto da Serge Danais naturalmente e quindi dal 30 di maggio 5 giugno Palermo, nona edizione come dicevo e ci sarà la possibilità di vedere 60 titoli addirittura.